Ieri sera alla casa Grande Fratello Vip c'è stata una grossa festa. Dopo essersi calati nei panni dei protagonisti della Turandò, ambientata proprio a Pechino, il Grande Fratello ha deciso di premiare i Vip con una cena a tema, permettendo loro di degustare delle tipiche potenze della cucina cinese. Su una tavola apparecchiata ad hoc, tutti gli attori affamati hanno subito fatto i complimenti alle due chef della casa, ringraziando anche Katia per la bellissima serata. Tutto questo in superclima confidenziale, tanto che ci sono stati anche tanti momenti divertenti. Uno di questi sta spopolando nel web. Si tratta dell'imitazione che Aldo Montano ha fatto di Francesca Cipriani. Aldo ha replicato la faccia di Francesca quando ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato. A voi ha fatto ridere? Scrivetelo nei commenti. Scriviti al nostro canale. Scriviti al nostro canale.